amici del canale youtube Gianluca Rossi TV insomma lui ha segnato un po' una mia lunga parte di coronista interista prima da calciatore di vita di vita nera azzurra Marco Branca ti ricordi il gol nel derby quello che prende so che ne hai fatti tanti però no no allora nel derby ne ho fatti due uno in Coppa Italia e uno in campionato tutte e due la partita finì per 1 a 0 per cui soddisfazione massima e lo so perché il derby sai che qua hai vissuto senti vabbè poi la parentesi lunghissima da dirigenti hai contato i titoli? I titoli sono sempre rimasti 15 perché poi dopo li abbiamo vinti anche dal 2006 al 2011 e siamo stati la squadra con più titoli nel quinquennio devo dire che mi sono divertito da pazzi un tema attualissimo sull'Inter è ma si riesce a tenere la testa su due fronti soprattutto adesso che è cambiata la Champions e c'è il campionato e bisogna ripetersi e tu mi insegni credo che rivincere è più difficile che vincere? è tutta questione di allenamento dell'ambizione non fisico e come si allena l'ambizione? L'ambizione si allena tutti i giorni con le parole con gli stimoli con i paragoni con la storia si allena con la voglia di essere sempre tra i primi se non i primi e questo lo alleni con i comportamenti con gli atteggiamenti ogni giorno e però a parole facile però poi come te lo metti in testa sta cosa qua che non devi rendere al 70 per cento perché tanto tu pensi di essere più forte con le squadre dico cosiddette che tu pensi che siano di medio cabotaggio no? No ma lo fai giornalmente lo fai giornalmente perché tu se giornalmente mantieni un livello alto poi sicuramente te lo ritrovi la domenica o il sabato o il martedì o il mercoledì se non fai tutti i giorni questo tipo di training qualche cosa ti salta. Mi spieghi però adesso sono passati 15 anni ma puoi spiegare io non ho mai capito come avete fatto voi nell'anno del triplete al di là della Coppa Italia e però c'è anche quella se no non sarebbe il triplete cioè ma pensavate di vincere tutte e due cioè come facevate che a un certo punto lo scudetto si stava pure perdendo. Sì no ma si stava perdendo anche la Champions perché fino a due minuti dalla fine a Kiev pareggiavamo e quindi se non vincevamo non passavamo il però lì è ancora la prima fase secondo me. Quindi già nella prima fase abbiamo incontrato difficoltà ma siamo sempre lì se uno ha un'ambizione alta fino all'ultimo secondo della partita che gioca e non ti puoi permettere allora l'allenatore può fare delle previsioni su chi fa giocare o meno lo faceva anche Giuseppe per i più piccoli scusate Mourinho no perché se no e per più più vabbè non è proprio antiguerra. Sono passati 15 anni dal triplete. 14 dai. Sì no no 14. Vabbè 14 è già differente ma a parte l'allenatore che fa queste previsioni poi dopo c'è la professionalità personale e c'è sempre l'ambizione poi dopo ci sono le caratteristiche fisiche di certi tipi giocatori. Ma voi ve lo dicevate quando c'era lì il Barcellona, poi c'era il campionato. Noi eravamo ambiziosi qualsiasi partita perché poi dopo ci sono state le partite contro le piccole squadre, c'è stata l'ultima partita del campionato con il Siena, ci sono state mille altre cose. L'ambizione era sempre quella di dimostrare che eravamo più bravi dell'avversario. Quelli che venivano scelti. Che spesso erano anche quasi sempre gli stessi. Qua quasi sempre quasi sempre poi magari c'era qualche minutaggio in meno per alcuni perché il sessantesimo, il sessacinquesimo, il cinquantesimo. Oggi è proprio scientifica sta cosa qua con tutte queste partite. Oggi è scientifica anche perché ci sono dei cinque cambi. Ci sono cinque cambi ed è già un grande vantaggio. Quindi c'è la possibilità di tenere in forma mentalmente più giocatori. Però se tu affronti ogni partita con il desiderio incrollabile di vincerla, questo è l'unico allenamento che può portare alla fine, se tutte le congiunture poi dopo tornano, a vincerne tre. Poi dopo ne vinci due, poi dopo ne vinci una. Non è quello il problema. Senti detto fra noi comunque irripetibile quella cosa lì. Tu ogni tanto, secondo te qualcuno lo potrà mai ripetere? Cioè l'Inter di quest'anno? Assolutamente. Ma allora di irripetibile o di migliorabile non c'è niente nella vita perché poi dopo c'è sempre qualcun altro che alla fine lo fa. Noi siamo strafelici di aver vissuto quel periodo. Auguro che ce ne sia uno nel prossimo futuro. Senti molti mi chiedono, poi chiudiamo, ma Branca cosa fa adesso? Perché uno bravo come Branca perché non torna a lavorare per un club? Beh. Ci tornerebbe? Ma allora io ora mi occupo, sono direttore strategico di un'agenzia di giovanotti meno giovani, un po' più anziani fondamentalmente gestisco. Devo dire che mi sta piacendo. Calcio sempre però. Sempre calcio, sempre calcio. Se poi dopo capita qualche cosa ben volentieri. Ma ti manca un po' ruolo di dirigente in un club o? Ma io credo che ruoli del genere mancano sempre. Perché ti danno una spinta, una produzione adrenalinica diversa. Quello che sto facendo adesso mi piace. La domanda più stupida che si fa in questi casi. Prendine uno di oggi e mettimelo nell'Inter del 2010. Non so se gioca e non so se è possibile farlo. E' antipatico perché... Puoi anche dire nessuno eh? Sì sì. Stavo dicendo nessuno come Ulisse no? Perché farei un torto a tutti quelli che hanno dato l'anima nel 2010, 2009, 2011, 2008, 2007, 2006. Vabbè l'ultima cosa banale poi saluto e ringrazio Marco Branca. Secondo te lo scudetto, fermiamoci lo scudetto per la Champions, è una cosa onestamente improcrastinabile. No, è più definibile a marzo. Ma secondo te l'Inter può ripetersi? Secondo me sì. Cioè c'è il Napoli di Conte, vedi la nuova Juve, poi Tiago ecco, uno che conosce bene Tiago. Tu lo sapevi che avrebbe fatto l'allenatore? Si capiva? Beh, si capiva da come giocava. Sì, sono d'accordo. Anche se tu non ci avessi mai parlato per tutta la vita, ma tu vedi giocare uno come Tiago e dici vabbè quello fa l'allenatore. Quello fa l'allenatore. Vabbè quindi Inter favorita ancora secondo te? Assolutamente, assolutamente favorita. Taremi mi piace. Marco spero che sia meno bersagliato dagli infortuni, di altri due sono forti e se hanno l'ambizione secondo me ce la fanno anche quest'anno. Ma Marco chi scusa? Arnautovic. Ah, Marcone Arnautovic. Già perché è del gruppo, scusate io mi sono perso. Io l'ho presi molti, molti, molti anni fa. Tu l'hai preso? Lui l'hai preso? Lui l'hai preso? Quanti l'hai presi? Tanti, tanti ma sono contento perché sono stati bravi. Ancora Arnautovic non era maturo, ha avuto qualcosina, poi dopo si è fatta la sua bella carriera e ora spero che non si faccia troppo spesso male. Adesso dove anche però a questo punto mi hai ingolosito l'ultima cosa davvero. Mi dici una cosa che non hai mai detto? Cioè l'operazione più difficile o se hai mai avuto un rimpianto in quegli anni lì in cui ne hai fatti tanti? No. Allora le operazioni chiaro che non sono state tutte facili ma bene o male sono arrivato a segno. Sei sempre riuscito a fare quello? Sì sì. Bene o male sì. Rimpianto nessuno perché perché devo dire che il primo dispiacere di non aver fatto una mezza cosa veniva compensato dal fatto che dopo due tre mesi era forse stato meglio non farla. Amici del canale Gianluca Rossi TV Marco Branca uno del triplete. Ciao ragazzi. Ciao grazie.